Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa lezione su Friedrich Nietzsche. In questo video esamineremo la prima grande opera di Nietzsche, La nascita della tragedia, in cui sono già contenute le linee direttrici, le principali linee direttrici, della sua ricerca filosofica. Nella nascita della tragedia abbiamo la teorizzazione della famosa coppia di opposti, appollino-dionisiaco, con cui Nietzsche interpreta l'intera storia della civiltà europea. Bene, quest'opera si inserisce in quella che è definita la prima fase della filosofia di Nietzsche, sempre che sia lecito suddividere in fasi questa complessa e articolata ricerca, così assistematica. L'interrogativo è rivolto alla decadenza della civiltà occidentale. Nietzsche mette sotto accusa l'intera civiltà occidentale dalle sue fondamenta. Le sue fondamenta stanno nella grecità, nella cultura e nella civiltà greca. Quindi quest'opera, indirettamente, costituisce anche una risposta alle seguenti domande. In cosa consiste questa decadenza? Perché una decadenza? Quali ne sono le cause? E come è possibile uscire fuori? L'uomo occidentale, l'uomo europeo, ha perso il contatto con la dimensione autentica e originaria dell'esistenza attraverso il dionisiaco e la rinascita della cultura tragica dionisiaca, sarà possibile riacquistare, almeno in quest'opera. Questa è la soluzione di Nietzsche, queste radici. La nascita della tragedia è un'opera pubblicata nel 1872. Nietzsche, dal 1869, a soli 24 anni, era stato incaricato di interere l'insegnamento di lingua e letteratura greca presso l'Università di Basilea. È un'opera pesantemente condizionata, come sarà tutto il pensiero di Nietzsche, dalla filosofia di Schopenhauer. Nietzsche nel 1865, appena trasferito all'Ipsi, aveva acquistato, quasi per caso in una libreria, una copia del mondo come volontà e rappresentazione. Si tratta di un'opera di filologia, anche se non rispetta i canoni accademici della cultura universitaria dell'epoca. Perciò non ha il rigore, la filologia, ricordiamo, è quella disciplina che mira a ristabilire la corretta lettura e interpretazione dei testi letterali, soprattutto dei testi letterali antichi. Manca dell'apparato critico e del rigore critico di queste opere, viene accolta perciò negativamente dall'ambiente accademico. In realtà è un'opera più filosofica, in cui Nietzsche si lancia in interpretazioni, fa considerazioni sul presente e perciò fuoriesce da quella che è l'ambito stretto della filologia. La domanda però più diretta di questo opere è quali sono le origini della tragedia greca. Ebbene, Nietzsche vede la tragedia come il risultato del rapporto tra due elementi, due principi, due intuizioni dell'esistenza che fanno entrambe capo al popolo greco. Il dionisiaco e l'Apollinio. E già qui abbiamo una prima... ecco, questo è Apollo e questo è Dioniso. Già qui abbiamo una prima critica, il presupposto da cui parte Nietzsche è un presupposto critico, la tradizionale immagine dell'Ellade, della grecità e della cultura classica, quindi come caratterizzata da perfezione e da armonia è falsa. O meglio, c'è questo aspetto, l'aspetto Apollinio della perfezione e dell'armonia, ma è un aspetto secondario rispetto a quella che, secondo Nietzsche, è stata l'intuizione più profonda dell'esistenza che era propria dell'animo greco, dell'intuizione greca, che è un'intuizione della tragicità dell'esistenza. L'esistenza come dolore, come lotta, come totale assenza di un significato, di un senso. Ecco, quindi come consapevolezza, coscienza tragica, appunto, il dionisiaco. Quindi, Dioniso è Apollo. Dioniso è il dio dell'ebrezza, è il dio che dona agli uomini il vino, è anche il dio della musica, è il dio che esprime la vitalità, la vitalità senza limiti, la vitalità in tutti i suoi aspetti. E' positivi e negativi, e quindi è disordine e caos. E' accettazione di tutta la vita, nella sua globalità, nella sua irrazionalità, del divenire, inteso come il dio che danza, il dio che ride, lo definisce Nietzsche, come totale mancanza di senso. Esprime, appunto, il dramma dell'esistenza. Un'esistenza che, proprio perché è caotica, è priva di un senso, di un significato, di un ordine, ma esprime anche l'accettazione entusiastica, entusiasmo, l'indiamento, della vita stessa, sia nei suoi aspetti positivi, la gioia, la vita, il piacere, sia nei suoi aspetti negativi, il dolore, la sofferenza, la morte. Questa è l'intuizione originaria, asiatica, proveniente dall'Asia, che i greci ricevono dall'Asia, come Dioniso, che è una divinità traccia, che proviene dall'Asia. Questa, dicevo, l'intuizione originaria dei greci. La loro concezione di base dell'esistenza. E poi abbiamo Apollo, Apollo, dio del sole, quindi divinità solare, della luce, guida delle muse, patrono delle arti, soprattutto delle arti figurative, cioè delle arti in cui prevale il modello di bellezza e di armonia, come l'architettura, la pittura, la scultura. E' il dio che rappresenta l'ideale dell'ordine, l'ideale della razionalità. La bellezza è intesa appunto come proporzione e armonia tra i vari elementi che compongono il tutto e che si integrano perfettamente tra di loro. E' a che fare con tutto ciò che è finito e che è definito, ha a che fare col pensiero e con la filosofia, con l'attività, cioè di categorizzare e di interpretare. Che cosa esprime Apollo? Apollo esprime la concezione che si contrappone a quella dionisiaca. La fuga di fronte all'orrore dell'esistenza vista come mancanza di senso, il tentativo di cercare un significato, di ordinare gli eventi, dando così loro e conferendo così loro un senso, di organizzare il divenire. E' quindi la fuga di fronte al caso dell'esistenza e sul riscatto in quello che è il mondo della rappresentazione. Avrete riconosciuto infatti in Dioniso e in Apollo, in questi impulsi naturali, la volontà di vivere di Schopenhauer. Il dionisiaco esprime l'irrazionalità, la forza istintuale, la forza vitale della volontà di vivere, così come l'Apollino esprime il principio di rappresentazione, le forme a priori dello spazio e del tempo e il principio di causalità che secondo Schopenhauer puoi darne una forma, un ordine al mondo. Ecco, questa è l'origine di questi due concetti, che vengono però da Nietzsche rielaborati, reinterpretati, usati come categorie simboliche per interpretare non solo la civiltà greca, ma l'intera vicenda della civiltà europea. Si tratta di categorie opposte, di una dicotomia, elementi contrapposti. Da una parte, ho sbagliato qui, questi sono gli attributi di Dioniso e questi di Apollo, quindi da una parte abbiamo Dioniso che esprime l'irrazionalità, esprime la cauticità, tutto ciò che è indefinito, il divinire, l'ebbrezza, l'oscurità, l'inquietudine, il dolore, la sofferenza, ma anche il piacere sfrenato. E dall'altra abbiamo il logos, la forma, ciò che è finito e che è definito, ciò che è statico, che è universale, che è immutabile, il sogno anche, visto come rappresentazione e narrazione, la luce, la serenità. Bene, che rapporto c'è tra Dionisiaco e Apollinio? Bene, se il Dionisiaco rappresenta quella che è la concezione che i greci ebbero dell'esistenza, che giunge a considerare la vita come assurdità, come mancanza di senso, l'Apollinio nasce come una reazione di fronte all'orrore che questa mancanza di senso suscita. occorre dare un significato, non ci si può fermare alla consapevolezza che la vita non ha senso, occorre dargli un senso e allora ecco che l'Apollinio è il tentativo di dare un senso all'esistenza per rendere sopportabile l'esistenza stessa, per rendere sopportabile la vita. Gli stessi dei olimpici sono frutto, creazione dei greci, per dare plasticità, bellezza, ordine, significato al mondo e alle vicende umane. E veniamo adesso alla domanda, da cui nasce il titolo stesso dell'opera, l'origine della tragedia. Questi vediamo sono i capri che danzano, i capri, gli uomini travestiti da capri, seguaci di Dioniso. Bene, la tragedia greca, tragedia deriva da tragos, che significa capro, oide, canto, quindi alla lettera canto dei capri, a origine dal di tirammo, una particolare metro poetico con cui si cantavano in lode a Dioniso, le lodi di Dioniso, accompagnandole dalla danza, accompagnandole dall'uso di strumenti e dal canto corale. Quindi l'origine della tragedia greca sarebbe quella del canto dei capri e dei cori dionisiaci. Ecco, espressione questa, gli uomini travestiti da capro, dell'unità tra uomo e natura, della bestialità insita dell'uomo, dell'imbestiarsi dell'uomo, ma anche dello scatenamento sfrenato, senza i limiti imposti dalla società, dalla morale, dalle regole, della convivenza, dello scatenarsi degli istinti vitali e dell'accettazione entusiastica dell'esistenza. Questi sono i mamutones, le maschere di mamuiada, che sono maschere dionisiache, in cui l'uomo è bestia e la bestia è uomo. Il confine tra umano e naturale, tra civiltà, razionalità e istintualità, viene a cancellarsi. Sono maschere ancestrali che risangono a ben prima dell'era cristiana. Ebbene, la tragedia quindi ha le sue origini nel coro. Il coro, ricordiamo che nella tragedia greca esiste il coro, che canta, e poi ci sono le vicende dei personaggi. In una prima fase, questi due elementi, si articola in tre fasi, l'evoluzione della tragedia greca secondo Nietzsche, in una prima fase questi due elementi si rapportano tra di loro come elementi opposti. Abbiamo la sola presenza del coro e il canto del coro. In una seconda fase, invece, abbiamo una fusione di entrambi questi elementi in una sorta di miracolo metafisico, lo definisce Nietzsche, e per cui essi trovano un perfetto equilibrio. Mentre in una terza fase c'è una rottura di questo equilibrio, prevale il Dionisiaco e comincia la decadenza della tragedia. La prima fase, questo è Sileno, è caratterizzata, diciamo, dall'opposizione tra due intuizioni completamente opposte della vita, l'Apollinio, per cui la vita è perfezione e bellezza, e il Dionisiaco, espresso da questa massima, con cui Sileno si rivolge a re Mida. Mida, il famoso re che trasformava tutto in oro, chiese a Sileno, divinità asiatica, poi seguace di Dioniso, chiede a Sileno che cosa sia la cosa migliore per l'uomo. E Sileno, ridendo di scherno, gli risponde, per te è impossibile raggiungere la cosa migliore, perché la cosa migliore per l'uomo è non essere mai nato, ma una volta nato, la cosa migliore di tutte è morire il più presto possibile, in cui vi è una visione estremamente pessimistica dell'esistenza, è una coscienza tragica di questa negatività dell'esistenza. La seconda fase, caratterizzata da questi due personaggi, Eschilo e Sofocle, Sofocle, l'autore dell'Oedipo Re, delle vicende di Edipo, Eschilo, il più antico dei tre grandi tragici greci, della tragedia attica. Bene, e l'equilibrio? Che cosa avviene? Avviene che l'elemento dionisiaco che è rappresentato dal coro e dal canto del coro e dalla musica che accompagna questo canto, si accompagna a questo elemento dionisiaco la recitazione di un attore, il protagonista, introdotto da Eschilo, che rappresenta l'elemento appollinio, quasi che il coro proietti sulla scena del teatro la vicenda recitata da un attore che introduce un elemento razionale, narrativo, recita le vicende dell'eroe, rendendole comprensibili. In questo modo si raggiunge un perfetto equilibrio tra i due elementi. Mentre il terzo momento, la terza fase, è dominata dalle figure di Euripide e di Socrate. Nietzsche vede Euripide come seguace di Socrate, i due si conoscevano, erano amici, influenzato dal razionalismo socratico. Nella sua tragedia, nelle sue tragedie, Euripide limita l'elemento dionisiaco rappresentato dal coro, che perde la sua importanza, introduce un terzo attore e quindi prevale l'elemento narrativo del dialogo tra i personaggi. Porta sulla scena la narrazione ordinata di eventi e la rappresentazione della vita quotidiana, l'interpretazione psicologica che cerca di spiegare, appunto, psicologicamente le motivazioni dell'agire dei personaggi. Una totale razionalizzazione della tragedia, quindi l'equilibrio si rompe e prevale l'elemento razionale. Ed è Socrate il responsabile di questa decadenza, della decadenza della tragedia, ma anche della decadenza dell'Occidente. Perché con Socrate abbiamo il rifiuto della mancanza di senso dell'esistenza. Quella che è la visione originaria dell'esistenza, quella che è la realtà reale, cioè il caos, viene da Socrate considerato falso. Socrate ha fiducia nella ragione e ritiene che con la ragione l'uomo possa cercare la verità, controllare l'esistenza, controllare il divenire. E quindi questo ideale razionale viene a sostituirsi, viene a sopprimere, a sostituire, la coscienza tragica dionisiaca. Bene, così abbiamo, dicevo, la decadenza della tragedia, ma abbiamo anche la decadenza dell'intera civiltà occidentale. Perché? Perché l'elemento razionale, che è secondario, che è derivato, elimina quella che è l'elemento istintuale, elimina quella che è la coscienza tragica, ma anche l'accettazione, il dire di sì alla vita, che è proprio della coscienza tragica, che è sì consapevole dell'esistenza come del coesistere di elementi opposti, positivi e negativi, ma che accetta la vita nella sua interezza, nella sua integralità. È all'uomo tragico, subentra l'uomo teoretico, l'uomo che ha fiducia nella ragione, l'uomo che rifiuta il divenire, l'uomo che cerca l'ordine, ma quest'ordine è un'illusione, un'illusione a cui l'uomo teoretico crede, pensando che il mondo, il vero mondo, sia quello dell'ordine, del senso, del logos, della ragione. E l'istinto vitale viene in questo modo ucciso, tipico della morale socratica, secondo Nietzsche, appunto l'intellettualismo etico, il fatto che la ragione debba controllare l'istinto. la civiltà europea, a partire dai greci e poi con Platone, con Socrate prima, poi con Platone, poi con il cristianesimo, avrebbe innescato il processo per cui l'uomo si allontana da quella che è la dimensione autentica dell'esistere, la coscienza dionisiaca dell'esistenza e l'accettazione della vita, e avrebbe invocato la strada della decadenza nella sostituzione, appunto, come dicevamo prima, al mondo reale di un mondo illusorio di perfezione, bellezza, ordine e armonia. Bene, come detto in precedenza, di fronte a questa prospettiva sulla tragedia greca in particolare e più in generale sulla storia europea, si innesca una relazione tra Nietzsche e Schopenhauer. Nietzsche riprende senza dubbio il pessimismo cosmico di Schopenhauer, per cui la vita è dolore, la vita è sofferenza, la vita è wille zum leben, volontà di vivere un istinto prepotente, totale e assoluto. L'essenza dell'esistenza sta in questo gioco del caos, del non senso, della sofferenza. Nietzsche accetta quella che potremmo definire la diagnosi dell'esistenza che per essenza è dolore, ma rifiuta le conclusioni cui giunge Schopenhauer. Schopenhauer individua tre strade per sfuggire alla volontà di vivere e quindi il suo ideale è quello della non volontà, della nuluntas, un atteggiamento di rinuncia che vuole esplicitamente rinunciare alla volontà, che non vuole più volere la vita, non volere più la vita, la nuluntas. E invece la strada presa da Nietzsche è quella dello spirito dionisiaco, accettare la vita nel suo aspetto duplice, doloroso e gioioso, insieme, positivo e negativo insieme. Dioniso infatti è tipicamente rappresentato dal sentimento dell'ebrezza e il dio che ride che danza dicevamo. L'ebrezza è l'esaltazione e l'accettazione di tutto. Nell'ebrezza cadono le distinzioni, cadono le differenze, non ha neanche più senso distinguere tra bene e male, tra bello e brutto, tra gioia e dolore, tutto è vita. L'ebrezza è Dioniso, il dio dell'ebrezza, è l'incarnazione della passione di vivere e quindi è l'esaltazione inizia dei valori terreni della corporeità, è una nuova dimensione da riconquistare, questa del dionisiaco e Zaratustra sarà il profeta di questo uomo nuovo in cui rivivrà questa coscienza tragica nella successiva ricerca di Nietzsche appunto abbiamo questa visione di un nuovo uomo. Mentre in Schopenhauer Nietzsche all'inizio si muoverà nell'ottica di Schopenhauer ma in seguito rifiuterà le conclusioni a cui Schopenhauer giunge, dicevamo, il rifiuto della volontà di vivere che nasce dal contemptu mundi il disprezzo per il mondo e per la vita visti come dolore e come mancanza di senso e quindi questo disprezzo del mondo che produce la fuga mundi la fuga dal mondo espressioni latine con cui nella cultura cristiana medievale si esprimeva appunto il fatto che questo mondo non fosse la nostra vera patria bensì fosse l'aldilà e questa fosse solo una valle di lacrime un periodo temporaneo ma la vera vita fosse l'altra vita nell'altro mondo nel mondo perfetto nell'aldilà e qui l'ascetismo di Schopenhauer delle tre vie quella etica quella artistica e quella ascetica l'ascetismo che è la via intraprese da Schopenhauer con cui si può con successo conseguire la rinuncia alla volontà che è la via del cristianesimo e del platonismo sia il cristianesimo sia platone prima del cristianesimo il cristianesimo altro non è che un platonismo per il popolo diceva Nice in che cosa sono accomunati il platonismo e il cristianesimo nella concezione dualistica dell'esistenza esistono due mondi un mondo imperfetto da disprezzare da cui fuggire il mondo della molteplicità del divenire del caos e quindi il mondo della falsità dal punto di vista di Platone e dei cristiani e il vero mondo il mondo ideale o delle idee di Platone il mondo perfetto dell'aldilà del cristianesimo che sono il vero il vero mondo ecco questa conclusione cristiana qui arriva Schopenhauer viene da Nice rifiutata e questa è la fase che Nice stesso definisce nella nascita della tragedia metafisica da artista potremmo anche dire che dietro l'Apollinio si nasconde la visione classica e neoclassica dell'arte che periodicamente ritorna nella storia europea il neoclassicismo la ripresa dei modelli classici mentre nel Dionisiaco si esprime invece una visione più vicina a quello che è il romanticismo la visione romantica dell'arte l'arte è una natura metafisica perché se il mondo è un tragico gioco di opposti in cui il coesistere di vita e morte gioia e dolore piacere eccetera eccetera tutto è mescolato insieme ecco solo l'arte è in grado di comprendere questa contraddizione non certo la ragione che si basa anzi sul principio di non contraddizione l'esistenza è contraddittorietà per essenza e solo l'arte è in grado di esprimere questo di comprendere questo da ciò la possibilità di una rinascita dell'Occidente attraverso la rinascita della cultura classica e Nietzsche individua in Richard Wagner il musicista Richard Wagner con cui intrattenne uno stretto rapporto di amicizia anche se poi ci fu una rottura la possibilità di questa rinascita della cultura tragica e quindi dell'Occidente Wagner infatti è emblema della rinascita dello spirito tragico grazie alla sua teorizzazione dell'opera l'opera d'arte totale la Gesamt non lo so pronunciare con quello scritto Gesamtkunstwerk Gesamtkunstwerk l'opera d'arte totale l'opera d'arte totale che cos'è? è l'opera lirica wagneriana in cui i vari aspetti delle varie arti si sintetizzano tutti in una unità ideale infatti l'opera lirica comprende in sé la musica comprende in sé la recitazione la letteratura la pittura e via dicendo e quindi l'opera d'arte totale è capace sintetizzando tutte le arti comprendendo tutte le arti in sé di esprimere l'anima profonda di un popolo le tragedie del ciclo dei Nibelunghi che in qualche modo richiamano ed esprimono quella che è la mitologia norrena nordica e che quindi rimandano alle radici del popolo tedesco espressione dell'anima del popolo e quindi una catarsi un ritorno a quelle che sono le vere radici espressi da quei miti Sigfrido l'anello dei Nibelunghi eccetera eccetera in questo abbiamo in questo ritorno all'arte tragica reso possibile dall'opera totale di Wagner abbiamo la rinascita dello spirito dionisiaco l'opera d'arte definitiva la catarsi rituale collettiva di tutto il popolo e il superamento della crisi europea e così si conclude la nascita della tragedia in modo anche ottimistico perché in quel momento Nietzsche ritiene di aver trovato in Schopenhauer e in Wagner le due figure le due guide per uscire fuori dalla crisi europea la via artistica l'artista schopenhaueriano e l'opera d'arte wagneriana potranno farne nascere la cultura tragica e quindi far sì che l'Occidente e l'Europa superino la crisi che è innescata dal razionalismo socratico bene questo è tutto vi ringrazio e buona giornata